Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della gestione dei boschi e sull'uso dei prodotti da esso ricavabili, incentivare i comuni alla realizzazione dei piani di gestione dei boschi per capirne le finalità, solo conservazione della biodiversità o una gestione per la produzione di materiale. Ancora la necessità del territorio di fare rete tra i vari operatori della filiera, anche attraverso una progettualità territoriale. Serve un maggiore dialogo tra le imprese boschive e chi valorizza il prodotto come le segherie. Infine la realizzazione di progetti innovativi in armonia con le comunità locali, comunicando con loro e coinvolgendole per un uso dei prodotti del bosco. Parliamo per esempio di cogenerazione di energia per il teleriscaldamento. Sono le quattro principali necessità emerse nel corso dell'incontro pubblico promosso ieri al Tecnoparco di Verbagna, dal Gal, Laghi e Monti e dalla provincia del VCO per la definizione dei fabbisogni territoriali, rivolto a operatori pubblici e privati delle filiere forestali e del legno locali. Perché il Gal, Laghi e Monti sta predisponendo la strategia di sviluppo locale. All'interno di questa strategia uno dei temi che possiamo andare a toccare è quello appunto della filiera del legno da opera e legno energia. E quindi era importante ascoltare, ascoltare il territorio, ascoltare gli operatori economici, ascoltare le pubbliche amministrazioni per capire qual è la loro visione di questo settore nei prossimi anni e capire, noi presenteremo quelle che sono le possibili azioni di supporto che il Gal potrebbe attuare con la nuova strategia, capire quali secondo loro sono quelli i cosiddetti prioritari. Il settore della filiera del legno, un ambito importante per il nostro territorio? Sì, importantissimo, noi siamo una provincia a specificità montana, quindi abbiamo un territorio molto boscato, pieno anche di legna e bosco povero e quindi dobbiamo cercare di valorizzarlo. Come ente ci siamo già fatti promotori e capofila di un progetto PSR da cui siamo stati finanziati con altri 18 partner e quindi oggi è un altro momento importante nella stesura della strategia di sviluppo locale. Presenti una trentina di operatori in sala o in collegamento, sui citati quattro punti, lavorerà dunque il gruppo di azione locale non solo con la nuova strategia ma anche attraverso altri progetti ai quali sta collaborando. L'idea è quella di costruire un progetto per la filiera del legno che nel medio-lungo periodo dia una risposta a queste istanze. Grazie.